Chi era Rosario Livatino? Rosario prima di essere un giudice è un uomo, io non amo molto la definizione giudice ragazzino, era un uomo che sapeva in che contesto si stava muovendo, ma soprattutto era un figlio, era un cugino, era un nipote, era tutto per la famiglia e poi era tutto per il lavoro. Questi erano i suoi ambiti e là ha dato il meglio di sé, tanto da arrivare poi alla beatificazione. Poche incisive parole, quelle pronunciate da Salvatore Insenga, cugino di Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia a 38 anni e proclamato beato da Papa Francesco. in Senga e tra gli ospiti dell'evento che oggi a Chieti ha aperto la mostra Sub Tutela Day, Rosario Livatino, l'uomo, il giudice, l'esempio che il CSV Abruzzo ETS allestisce fino al 31 marzo al Museo Barbella di Chieti e poi in altre tre città abruzzesi fino al 14 maggio, Pescara, Vezzano e Teramo. Il perché di questa mostra nelle parole di Armando Di Bonaventura, coordinatore delegazione Chieti-CSV. Per quanto riguarda Livatino, poi c'è da dire che Livatino è stato elevato al rango di beato da Papa Francesco proprio perché nella sua attività di magistrato e quindi di servitore dello Stato ha avuto una fortissima influenza la sua dimensione di fede. E quindi noi oggi infatti cerchiamo di leggere la storia di Livatino anche da questo punto di vista perché ci sembra importante, non è una qualità in più rispetto a tutti gli altri che hanno dato la loro vita però è una sua peculiarità. La mostra è a cura di Roberta Masotto e gli studenti faranno da Cicerone, sub tutela dei, era il motto di Livatino, significa essere liberi da altre tutele, da quelle insidiose, invisibili delle mafie o degli interessi di parte. Da sua parte era la giustizia. Monsignor Bruno Forte, arcivescovo Chieti-Vasto. Ci avviciniamo alla Pasqua con quale messaggio? Probabilmente è Cristo il messaggio centrale, che Cristo, morto e risorto per noi, è la vera pace. Cioè che la pace non si costruisce solo con equilibri di forza o di paura ma si costruisce con la conversione del cuore e la volontà di tutti a cooperare ciascuno per la sua parte al bene di tutti.